You want a 100 and finish? You want a 100? You want a 100. Ok, take it out. You ride me. My friend, me italiano. Take it out, I'm black. Yeah, she and the gold. Get back. Claudio Dogoi presenta Grand Theft Italiano 5. Insieme andremo a scoprire i protagonisti del gioco. Michael, ex macellaio di successo e ora padre di famiglia. Perché questa carne costa così tanto? Ma io che cazzo ne so. Franklin, un malato di risparmio in cerca di cose originali a prezzi stracciati. Trevor, un truffatore killer professionista. Nel gioco ci sono anche molte novità, puoi personalizzare le auto a tuo piacimento. Puoi anche travestirti da Naruto e invadere l'area 51. Giocare a calcio. Buon figlio, buon figlio. Grazie a tutti. Ahahahah!